Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate. La Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, attesta l'esistenza di un luogo che si chiama Hades. Hades è un termine greco che designa il soggiorno dei morti. Questo luogo è comunemente chiamato inferno, ossia luogo di sotto, luogo inferiore. Ed è un luogo reale, non è un luogo simbolico o metaforico, assolutamente no. No, è un luogo reale, ed è un luogo di tormento. Un luogo di tormento perché in questo luogo c'è il fuoco. È un fuoco non attizzato da mano d'uomo, ma pur sempre fuoco. E quindi è un luogo orribile. In questo luogo scendono le anime di coloro che muoiono nei loro peccati. Infatti, Gesù, il Cristo di Dio, ha raccontato una storia, che è la storia di Enrico e Lazzaro. Una storia, badate, non una parabola come dicono i bugiardi. Una storia che, in maniera molto eloquente, ci dice che questo luogo è veramente un luogo di tormento. Leggiamo, infatti, capitolo 16 di Luca, a partire dal versetto 19. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò, padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse, figliolo ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo fra noi e voi è posta una gran voragine perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano né di là si passi da noi. Ed egli disse, ti prego dunque, oh padre, che tu lo mandi a casa di mio padre perché ho cinque fratelli affinché attesti loro queste cose onde non abbiano anch'esse a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse, hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. Ed egli, no padre Abramo, ma se uno va a loro dei morti si ravvederanno. Ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè i profeti non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Dunque questo uomo ricco che vestiva porpore e bis ogni giorno godeva splendidamente, quindi era dato il piacere della vita quando morì, dico quando morì, fu seppellito quindi il suo corpo, diciamo, fu seppellito, fu messo in un sepolcro ma la sua anima discese nell'Hades all'inferno e si ritrovò quindi nei tormenti e là desiderava tanto che qualcuno intingesse la punta del dito nell'acqua per rinfrescargli la lingua. Perché? Per quale ragione? Perché era tormentato in una fiamma. Le parole sue non lasciano alcun dubbio. Padre Abramo, abbi piedà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma. Ora queste parole sono parole dure ma sono parole vere e ci dicono che coloro che sono nell'Hades sono tormentati in mezzo alle fiamme del fuoco. dunque le fiamme dell'inferno esistono non sono allegoriche non sono metaforiche come dicono i bugiarvi sono reali e producono un tormento continuo in coloro che appunto sono scesi in questo luogo di tormento. Dunque voi che siete sotto il peccato che siete dunque schiavi del peccato perché chi commette il peccato è schiavo del peccato dovete sapere che siete sulla via della perdizione ossia sulla via che mena o che porta in questo luogo di tormento. Segnatevele bene queste parole segnatevele bene questo luogo di tormento perché voi siete diretti in questo luogo di tormento. Voi non siete diretti in paradiso nel regno dei cieli come vi hanno detto i bugiardi voi essendo sotto il peccato siete diretti all'inferno. Vi hanno illuso io non vi illudo io vi dico la verità che è in Cristo Gesù vi hanno lusingato io non vi lusingo vi dico come stanno le cose vi dico dove state andando io vi devo avvertire l'amore di Cristo mi costringe ad avvertirvi chi vi lusinga non vi vuole bene. Dunque siete diretti in questo luogo pensate solamente a questo se voi doveste morire in questo momento sprofondereste in questo luogo di tormento senza alcuna più speranza di salvezza sprofondereste nel fuoco dell'inferno. Ci vuoi terrorizzare? Qualcuno dirà no io voglio la vostra salvezza desidero che voi siate salvati e per questo vi devo dire quello che vi aspetto una volta che morirete perché siccome che vi hanno detto che il Signore vi salverà sicuramente perché il Signore è buono non guarda quello in cui uno crede quello che uno non crede siccome che vi hanno detto che potete meritarvi il parasiso con le vostre buone opere è chiaro che io vi devo avvertire vi devo avvertire perché so dove state andando state andando all'inferno l'inferno vi sta aspettando ma siccome che il mio desiderio è che voi siate salvati strappati alle fiamme dell'inferno io vi annunzio la via della salvezza vi annunzio la via della salvezza e quindi vi dico ravvedetevi e credete nell'Evangelo perché è solamente credendo nell'Evangelo che appunto l'uomo viene salvato dai suoi peccati ottiene la remissione dei peccati la giustificazione e la vita eterna perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza da ogni credente del giudeo prima poi del greco poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede dunque l'Evangelo la buona novella qual è questa buona novella la buona novella è che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò dai morti secondo le scritture che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio questo è l'Evangelo che è potente a salvare chiunque crede in esso ecco perché vi esorto a ravvedervi quindi ad abbandonare i vostri pensieri inique e vani che vi rendono nemici di Dio nella vostra nella vostra mente e a credere nell'Evangelo perché credendo nell'Evangelo appunto il Signore avrà misericordia di voi perdonerà i vostri peccati otterrete la remissione dei vostri peccati perché di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome sarete salvati liberati quindi da vostri peccati sarete giustificati perché perché il giusto vivrà per la sua fede e otterrete la vita eterna perché è scritto chi crede nel figliolo badate bene cosa c'è scritto chi crede nel figliolo ha vita eterna ha vita eterna e dunque dal momento che chi crede a vita eterna è sicuro di scampare alle fiamme dell'inferno è sicuro che quando morirà egli si dipartirà dal corpo ossia la sua anima si dipartirà dal corpo ed andrà ad abitare con il Signore nel regno dei cieli nei luoghi altissimi questo è quello che appunto l'uomo tiene per grazia credendo nell'Evangelo quindi vi rinnovo appunto l'esortazione ravvedetevi e credete nell'Evangelo altrimenti ve lo ripeto altrimenti ciò che vi aspetta è la perdizione non illudetevi non è che rifiutandovi di credere nell'Evangelo voi sarete salvati lo stesso eh il Signore Gesù disse prima di ascendere in cielo alla destra del del Padre chi non avrà creduto sarà condannato non illudetevi solamente credendo nell'Evangelo potete essere salvati perdonati giustificati potete ottenere la vita eterna non c'è un'altra via chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato ciò che vi aspetta la condanna in altre parole la condanna ecco perché appunto poi quando morirete morirete nei vostri peccati se appunto vi rifiuterete di credere nell'Evangelo e scenderete là dove l'anima di questo uomo ricco e ancora si trova pensate dopo tutto questo tempo quell'uomo l'anima di quell'uomo è ancora in quel luogo nei tormenti e voi lo raggiungerete allora vi ricorderete di chi vi ha annunziato l'Evangelo di chi vi ha esortato a ravvedervi a credere nell'Evangelo ma sarà troppo tardi non avrete più la possibilità di ravvedervi di credere nell'Evangelo e quindi rimarrete nell'adesi in attesa del giorno del giudizio quando risorgerete in risurrezione di giudizio per comparire davanti al trono di Dio ed essere giudicati secondo le vostre opere e gettati anima e corpo badate bene in un luogo di tormento che si chiama stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda dove sarete tormentati nei secoli dei secoli quindi considerate l'eternità che vi aspetta un'eternità piena di infamia di dolori un'eternità di tormenti è terribile ciò che vi aspetta è qualcosa di orribile perché prima una volta che morite ve ne andrete nell'ades e poi dopo il giorno del giudizio quando appunto risorgerete sarete gettati poi da Dio nello stagno ardente di fuoco e di zolfo cioè talvolta mi mancano le parole vorrei dirvi molto di più ma veramente io voglio che voi riflettiate sulla fine orribile che vi aspetta voi che siete sotto il peccato per quello il mio desiderio è quello che voi siate salvate ed è per questo che vi scongiura a ravedervi e a credere nell'Evangelo a voi mariani che andate dietro gli idoli gli idoli muti che fate tutte queste processioni portando sul baldacchino questi questi idoli muti che hanno hanno gambe hanno gambe non camminano li devono portare hanno occhie non vedono hanno orecchie non sentono hanno bocche non pallano voi voi che andiamo seguite questi idoli muti ravvedetevi convertitevi dagli idoli a Dio siete degli idolatri ciò che vi aspetta quindi è l'inferno ma dove pensate di andare voi che vi prostrate davanti alle statu alle immagini che li adorate le pregate ma dove pensate di andare dopo dopo morti eh in paradiso voi non vedrete giammai il paradiso eh ah pensate di andare in purgatorio vi hanno detto che andrete in un purgatorio a purgarvi no non esiste il purgatorio voi andrete all'inferno nell'Hades nei tormenti e poi la vi ricorderete vi ricorderete di chi vi metteva in guardia dagli idoli dall'idolatria eh e allora smetterete di raccontare di farvi battute eh contro quelli che vi avvertivano dall'idolatria quindi ravvedetevi e convertitevi voi mariani eh da tutti da questa idolatria a cui siete dati e credete nell'evangelo della gloria del beato di Dio per essere salvati altrimenti altrimenti perirete vi ritroverete vi ritroverete lì eh assieme al al ricco eh in questo luogo di tormento in questo luogo quindi orribile è orribile ci sono molti che si fanno beffe del del dell'inferno ricordo ancora una volta una volta stavo parlando stavo parlando una coppia di persone e gli parlai dell'inferno e in maniera sarcastica in maniera ironica uno di loro mi disse beh così almeno starò al caldo vada bene non è che starai al caldo tu starai in mezzo alle fiamme nei tormenti eh nei tormenti ricordatelo questo ricordatelo tu che fai la stessa battuta io posso non sentirti che fai questa battuta ma il Dio ti sente eh sì certo c'è il caldo soffocante della fiamma però ricordati ricordati questo piangerai striderai i denti eh e battute non ne farai più sull'inferno lì smetterai di fare le battute sull'inferno e su quelli che avvertono dall'inferno non importa chi tu sia quindi vi scongiuro ravvedetevi e credete nell'Evangelo della grazia di Dio affinché il Signore abbia misericordia di voi perché ciò che vi aspetta veramente è questo luogo di tormento questo luogo orribile che appunto è l'inferno ravvedetevi credete nell'Evangelo della grazia di Dio il Signore avrà misericordia di voi vi straperà dalle fiamme di questo di questo di questo luogo veramente orribile chi ha orecchi da udire oda di questo luogo